Allora, famiglia Gimignani! Con un campanello e... Allora, facciamo così. Allora, come spiegiamo allora? Tanto buongiorno. Posso darvi la mano, come sapete? Ciao bella! Ciao, sei stanche di stare a casa? Fortuna che c'è un bel giardino che è qui. E ti diverti. Il mio figlio che è in pastiche dentro, noi abitiamo in un condominio. Adesso giochiamo a ping pong, giochiamo a ping pong nel tavolino di casa. Allora, un tavolino piccolo piccolo. Era di sotto il diavolata, poverata. Eh, sopporterà oggi. Però, però sei già consentito. Comunque, un piccolo contributo che diamo. Sono due mascherine a persona. Bello! Però, come dicevo prima ai volontari, ne lasceremo un altro po'. Un altro po' per gli over 65, i malati e coloro che hanno bisogno di medicamento. Quindi, vuol dire, chi ne ha bisogno, puoi andare a riprendere gratuitamente. Però già, due a testa, insomma, per... Sembra che si usa tutto il giorno, darmi una risposta interessante. Poi ci sono un po' di prescrizioni, perché come avete visto, dovremo stare a casa fino al 2 di maggio. Sì. Buona giornata, ciao 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 ciao.